Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi andiamo a vedere come concimare il nostro terreno con un concime altamente naturale io uso concime di letame bovino ed equino particolarmente consigliato nei terreni sottoposti ad intensa coltivazione e a base di sostanze naturali di origine animale consentito in agricoltura biologica ora andiamo ad aprire la busta la confezione ecco qui come potete vedere come è formato ecco qui ecco qui come potete vedere come è formato questo letame questo è un letame secco andiamo a mettere in un secchio per poi cospargerlo in mezzo al terreno allora ragazzi leggendo un po' che c'è scritto dietro le indicazioni della ditta e dice che è un quintale di humus canna vale almeno 10 quintali di letame maturo di stalla quindi è garantito quindi esente da semi da erbi intestanti e tutto il restante quindi è nudo e crudo ecco qua possiamo vedere anche la composizione biologica azoto totale carbonio umidità il resto l'azienda ci dice anche quanto concime usare per cosa agrumi patata e tutto il resto non concime altamente naturale allora ragazzi andiamo a concimare con il nostro stallico di equino e bovino andiamo a concimare e adesso sto concimando delle piante di lavanda ma voi se volete fare l'orto nel 2024 adesso io mi trovo a registrare questo video a novembre 13 novembre 2023 ma se volete avere dei frutti nel vostro orto nel 2024 lo dovete concimare adesso perché adesso il terreno è bello lavorato quindi con diventi atmosferici quindi pioggia neve e tutto il resto questo pellet viene assorbito in maniera lenta perché è pellettato quindi ragazzi vi ricordo che un quintale di pellet equivale a 10 quintali di stallico fresco di stalla quindi ragazzi potete immaginare che con 4 sacchi da 25 kg fate veramente un bel lavoro e quindi sto dicendo ragazzi se volete fare l'orto avere un orto fruttuoso nel 2024 dovete concimare adesso quindi ottobre novembre massimo dicembre che il terreno è lavorato e quindi con le piogge future ecco la neve questo stallico si assorbe in maniera graduale e quindi va a concimare in maniera biologica poi il nostro orto quindi questo è un bel stallico pellettato e l'ho provato già l'anno scorso ho concimato già l'anno scorso ma sempre novembre 2022 per poi fare l'orto nel 2023 quest'anno ho avuto un orto bello fruttuoso molti hanno avuto in queste zone hanno avuto problemi con l'orto non hanno avuto una buona resa e io ho avuto una buona resa perché ho concimato con questo stallico naturale quindi è biologico ragazzi non ci sono semi non ci sono semi infestanti di erbe infestanti e tutto il resto quindi lo potete utilizzare tranquillamente ragazzi detto questo battiamo le maniche per far uscire un po' di stallico un po' di polvere detto questo finiamo a conciivare e ci vediamo in un prossimo video wow